Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola ci sono code per traffico intenso tra Badia, Arripoli e Pontassieve in entrambe le direzioni, code causate dalla chiusura per una frana della provinciale 34 di Rosano tra Vallina e Le Gualchiere di Remole. Sulla FIPILI fare attenzione per una perdita di carico avvenuta tra Ginestra, Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze chiusa una corsia per lavori tra Colle Valdelsa Nord e Poggi Bonzi in direzione Firenze. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero senso unico alternato per una frana tra Popiglio e la Lima. Puoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!